Il centro-destra ha unito oggi in piazza per ribadire il no al voto del referendum che tra poco vocherà gli italiani. Sì, sempre uniti, come siamo stati negli ultimi tempi, per ribadire un no a questa riforma. È una riforma che non funziona, è una riforma che non è vera, che annulla il bicameralismo, è una riforma che blocca questo Paese qualora dovesse passare. Non è una riforma che dà stabilità. La stabilità non si dà attraverso le riforme costituzionali, ma si dà con la legge elettorale. Quindi diciamo noi un fermo e secco no e invitiamo tutti i cittadini il 4 di dicembre ad andare in cabina elettorale. È importante andare, non c'è quorum, quindi chi vuole bocciare questa riforma, chi vuole mandare Renzi a casa, domenica il 4 di dicembre vada e voti no.